La salute prima di tutto! Mister Danza, oggi un punto guadagnato con un po' di rammarico perché potevano essere tre punti, com'è andata? In effetti è un punto guadagnato perché per come si era messa la partita e per le condizioni del campo, per le condizioni climatiche non del campo, ci hanno impedito di fare quello che secondo me sono i nostri potenziali perché di fatto non si poteva giocare a calcio, ma noi siamo andati in svantaggio l'unico tiro in posto che hanno fatto loro, tra l'altro c'è stato anche fortucio il gol perché il mio portiere era parata, poi il vento l'ha panna da dentro. Siamo stati bravi a reagire, a non mollare, siamo rimasti in dieci, perché è molto difficile tra l'altro, però devo fare lo stesso i complimenti ai miei ragazzi che hanno creduto fino alla fine. Sì, non siamo stati brillanti come le altre due partite, ma ci sta perché l'avversario mi è sembrato una buona squadra, ben organizzata, ma è anche vero che il vento ha impedito sia a noi che a loro di poter fare qualcosa di più. Lei è il nuovo allenatore della terza da qualche settimana, come ha trovato la squadra? Guarda, ho trovato una squadra un po' giù moralmente, devo essere sincero, però devo dire anche che ho trovato una buona squadra, sotto ogni aspetto, perché i risultati li hanno dato torto ai ragazzi, lo stesso il mister che mi ha preceduto, perché hanno perso quattro partite, hanno perso un po' le loro convinzioni, avevano perso un po' di motivazioni, non so. Il mio è stato forse un lavoro più psicoterapico, a livello mentale se vogliamo, dove ho cercato di far capire loro che è una squadra che è stata allestita per far bene quest'anno. In effetti loro, anche chi mi ha preceduto, ha fatto un buon lavoro, perché non posso dire niente. È una squadra fatta bene, costruita benissimo secondo me, è chiaro che poi i risultati sono quelli che ti danno la forza di andare avanti, i risultati ti danno morale, ti aiutano a far bene. Loro per sfortuna sono incappati in una serie di partite negative, dove la squadra, lo stesso il mister, si sono soppersi. La persona è arrivato io, è stato facile comunque lavorare con dei ragazzi intelligenti, perché loro hanno capito il momento difficile, in momenti di difficoltà si sono ricompattati, io credo che al di là di Mr. Danza il merito va a loro, perché poi gli artefici sono sempre loro, l'allenatore non ha la bacchetta magica, che ha un po' di mio, forse si vedrà, ma col passare dal campo. Adesso secondo me devo fare i complimenti e devo dire onestamente che anche cremente, chi mi ha preceduto, ha fatto un buon lavoro. Grazie a tutti per aver guardato il video, grazie a tutti per aver guardato il video,